Con Molinaro, parte il lancio verso Treseghe, pallone buono per Del Piero, la rete! Camoranesi da Juventus è in vantaggio, Mauro German, Camoranesi passano 3 minuti e 40 secondi, Inter 0, Juventus 1. Non è salita la retroguardia di Roberto Mancini e questo è un gol che gela San Siro. Fanno festa soltanto i tifosi bianconeri, Camoranesi letteralmente dimenticato, è Maxwell che sale male, ma qui il fuorigioco di Camoranesi probabilmente c'era. Sì, con tutto l'interesse nel passare a ritmo ora la Juventus, Del Piero dentro per Treseghe, attenzione a Treseghe, la conclusione, un raddoppio di Davide Treseghe, Juventus 2, Inter 0, Davide Treseghe, raddoppio per bianconeri. E questa è l'azione classica della coppia del Piero Treseghe, uno incontro al pallone, l'altro sul profondo che sa già dove arriverà la sfera del compagno, esterno magico di Alex Del Piero e Treseghe ha lasciato cascare la sfera prima di scaraventarla alle spalle di Julio Cesar. Si ferma, scivola, attaccato da Nedved, poi il pallone ancora per il brasiliano che va in mezzo, Ibrahimovic! Anzi il gol è di Manish che riapre la partita e questa è la dura legge del gol. E l'avevamo detto, la Juve ha fallito lo 0-3 in più di una circostanza e adesso l'Inter è di nuovo in partita. Ci sperano, sperano e pregano i tifosi nerazzurri.